Noi siamo l'associazione Ti Accompagno, affiliata al Centro Turistico Giovanile, un'importantissima realtà nazionale che sposta e muove ogni anno milioni, insomma, numeri importanti di turisti per tutta l'Italia. La nostra associazione come scopo ha quello non solo di portare turismo all'Aquila, investire su quelle che sono le peculiarità del territorio, al fine di creare quello che è il brand della città, il brand dell'Aquila, che sia un forte attrattore turistico. Per farlo abbiamo intenzione di collaborare con quello che abbiamo esposto, con accompagnatori turistici, guide turistiche, guide di mezza montagna, Turo Pereto, l'Agenzia di Viaggio e le varie associazioni del territorio. Quindi l'unione delle varie forze e delle varie componenti che sono già presenti qui sul territorio, per diventare forte attrattore turistico. L'affiliazione del CTG è un'affiliazione molto importante perché permette all'Aquila di entrare in un circuito nazionale e questo potrebbe ovviamente portare moltissimi vantaggi. Noi ovviamente siamo accompagnatori turistici, quindi figure professionali del territorio, per accompagnare e portare persone in giro per l'Aquila e l'Interland. Grazie. 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 Grazie.